Buon Natale a tutti, buon 2014, soprattutto a Roberta, vinci, vincente! Buon Natale, buon anno anche a Seppi, buon anno ragazzi a tutti, ciao Super Tennis, I love you, ciao! Tanti auguri a tutti gli ascoltatori di Super Tennis, ci vediamo l'anno prossimo, buone feste! Auguri a Super Tennis, buon Natale, felice 2014 e a tutto il tennis italiano! Tanti auguri di Buon Natale a Super Tennis! Auguri e felice nuova Super Tennis e a tutti i tifosi che mi hanno effettifato tutto l'anno! Auguri a tutti, felice anno nuovo, ci vediamo l'anno prossimo! Auguri di Buon Natale, di Buon Anno a tutti voi di Super Tennis, speriamo che questo 2014 sia un anno positivo per tutti quanti, un bacione e auguroni! Buon Natale, buone feste e un grandissimo 2014! E ciao a tutti, tanti tanti auguri di Buon Natale, di Buon Anno e spero che ci seguite tanto, ciao! Tanti auguri di Buon Natale e buone feste per un grande 2014! Ciao a tutti! A tutti i telespettatori, agli amici, gli appassionati, quelli che amano veramente il tennis, un fantastico Buon Natale, un fantastico fine anno, un fantastico inizio d'anno! Auguri di Buon Natale a tutti quanti e guardate sempre Super Tennis! Ciao! Auguri di Buon Natale a tutti gli spettatori di Super Tennis! Ciao, tanti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli appassionati di Super Tennis! E continuate a seguirci e Buon Natale! E Buon Natale a tutti, felice di Buon Natale a tutti gli amici di Super Tennis! Ci vediamo al prossimo anno per un grande 2014! Ciao, ciao! Tanti auguri di Buon Natale a tutti gli telespettatori di Super Tennis! E se potete di tanto guardateci su Circolando! Vi auguriamo un grandissimo 2014! Un saluto a tutti! Tanti auguri, buona fine, buon principio, giocate a tennis, praticate ai Pietrangeli giovani! E soprattutto praticate, praticate l'amore e anche il tennis, le due cose che vanno di pari passo! Anch'io, Ruguroni, Buon Anno! E mi accontenterei di un anno come Cristo è passato! Tanti auguri a tutti, un buon Natale, un sereno e felice anno nuovo! E cercate di seguire il tennis perché per noi è importante anche quello! E' già da aperto e quindi dal 28 di dicembre saremo già in pista per giocare ai Pietrangeli del 2014! Buon Natale a tutti! Ciao!